ragazzi io non so se sono provato perché ho dormito tre ore o se sono provato dal gol di rugani ma veramente sono cotto questa partita neanche se avessi giocato io non sarei così cotto incredibile allora io parto dal frosinone gli faccio i complimenti per la personalità perché è andata sotto nei primi minuti e nonostante ciò ha provato a mettere in difficoltà la juve e c'era riuscita ed era riuscito a ribaltare la partita incredibilmente con due errori difensivi nostri imbarazzanti però intanto loro gli errori difensivi li hanno sfruttati e è vero che oggi non aveva nulla da perdere ma tutto da guadagnare però a me comunque piace frosinone sono più partite che di fatto non porta punti a casa però io sono convinto che giocando così i punti torneranno ad arrivare perché è una squadra che sa quello che fa e comunque lo fa bene lo fa bene se contro la roma non era stata cinica la squadra di francesco quest'oggi era stata più che cinica quindi ovviamente contro di noi però ecco ragazzi i complimenti sono veramente sentiti e di cuore poi hanno peccato proprio all'ultimo di ingenuità però ci ha provato quindi complimenti complimenti alla squadra giuseppe di francesco vediamo la juve alla juve ragazzi sulla juve tante cose da dire partiamo dal risultato fondamentale tre punti vitali e spero che questo servano da da carburante per questa macchina che è la juventus però non si possono prendere due gol come li abbiamo presi non puoi prendere due gol così dopo che hai sbloccato la partita e sei andato in vantaggio dopo che indirizzato la partita sui binari che volevi tu ma poi gol di ingenuità difesa schierata un attaccante dentro l'area noi stiamo parlando di lewandowski arricchene stiamo parlando di che dirà un giocatore di serie b un giocatore che fa fatica pure a giocare nel frosinone gli abbiamo fatto fare un gol che sembrava il gol più facile del mondo e non è così perché ha fatto un gol il secondo gol non esiste non puoi prendere un gol così lì si si spende il fallo ci si prende il cartellino giallo ma non si può prendere un gol del genere ma non esiste e vi faccio l'esempio mazzitelli avete visto come ha preso vlaovic con le braccia per cercare di fermarle tu perché i nostri no cioè ragazzi ci vuole della malizia parte che mazzitelli ha fatto 200 falli non so perché anche lì non si è preso il giallo ma va bene tralasciamo questo questo aspetto però ci vuole ci vuole più furbizia devi portarti gli episodi dalla tua parte e in questo momento noi prendiamo gol lo rischiamo di prendere gol con un semplice errore con una disattenzione quindi non possiamo permetterci di sbagliare veramente due gol abbiamo preso due gol imbarazzanti e poi ragazzi siamo stati troppo lenti nella manovra siamo un po troppo prevedibili c'era allegri diceva guarda la su sky che continuava a chiedere di velocizzare il gioco e di muovere il pallone anche da fascia a fascia e quando mai e quando mai io ragazzi vedo delle cose che non mi piacciono ma proprio dal punto di vista logico fine primo tempo fallo laterale per la juve mancano pochi secondi si perde tempo per cambiare il battitore si gioca la palla invece che buttarla in mezzo la passi indietro a bremer che la passa a scesni o comunque a chi per lui che la passa a scesti e poi magari allora da lì scesni fa il cross ma siamo sulla tre quarti loro ma perché ma buttatela in mezzo voi la palla cioè ragazzi io continuo a notare questo io continuo a notare giocatori che molti giocatori non sono da juve ma per un semplice motivo perché non hanno la personalità per essere da juve ci vogliono dei giocatori che si assumono le responsabilità oggi vlaovic ha fatto una partita da leone weston mckenny anche quest'oggi ha fatto una partita di sacrificio incredibile e ha fatto due assist poi ha fatto un errore che a momenti ci costa il gol però si è distrutto una spalla per salvare quell'occasione lì e c'è riuscito cioè ci sono dei giocatori a cui non si può dire assolutamente nulla invece ce ne sono altri e su tutti chiesa che sono imbarazzanti 61 minuti di nulla chiesa ragazzi non fa più un cross non riesce a stoppare il pallone cioè ma dai ma dai non riesce a puntare l'uomo non riesce a fare un tiro decente ma non scherziamo prendete ildis ildis sta dimostrando di avere più personalità entra e lega lui il gioco un ragazzino che fino a un mese e mezzo fa giocava nella next genus giocava in serie c io veramente poi si è mangiato un gol ildis mamma mia mamma mia però bisogna bisogna che giochi chi riesce chi si sente veramente da juve io mi rifaccio le parole di davis chi non si sente dalla juve faccia i bagagli e se ne vada perché poi è troppo comodo a mio avviso dare la colpa all'allenatore perché allegri sicuramente ha delle colpe deve migliorare sul gioco va bene tutto quello che vogliamo però ragazzi non esiste che non riesce a fare uno stop che non riesce a saltare l'uomo che non riesce a tirare in porta una volta una volta l'anno di pirlo bisognava dirgli di passare il pallone perché tirava sempre ora non tira praticamente mai l'uomo non lo salta mai non riesce a strappare non riesce a fare nulla i campioni nei momenti difficoltà tirano fuori quel qualcosa e lui invece non ci riesce e questo mi fa investialire due anni di nulla chiesa due anni di nulla poi fa mezza partita buona fenomeno chiesa no è due anni di nulla e mi dispiace e mi dispiace poi non li voglio buttare la croce ci mancherebbe però ragazzi cioè i giocatori che abbiamo sono sono quelli è dalla panchina può venire fuori poca roba quindi ci vuole uno sforzo di tutti non che alcuni si ammazzano ed altri giocano sì però no no bisogna prendersi le responsabilità e e quindi niente bisogna bisogna riuscire a velocizzare la manovra e sfruttare di più le occasioni ragazzi 22 tiri 5 in porta 22 tiri 5 in porta cioè ci deve pensare rugani all'ultimo e io vi giuro io ho la netta sensazione che lui non abbia voluto tirare lui abbia cercato il passaggio per milic e da un passaggio sbagliato sia andato il gol ma va benissimo avessimo segnato anche con con l'ascella me lo sarei preso assolutamente pure di orecchio per non dire anche di peggio va benissimo però ragazzi bisogna che ci diamo una svegliata perché gli avversari l'odore del sangue lo sentono lo sentono e quando tu nuoti in un mare di squali c'è il sangue si è messo maluccio è si è messo maluccio quindi bisogna darsi una svegliata perché è veramente in fase difensiva dormiamo e quando manca danilo comunque ragazzi si sente si sente al centro campo facciamo una fatica poi si è fatto male rabbio si è fatto a inizio partita si è fatto male meccani dopo quindi già il nostro centro campo è quello che è per giunta adesso abbiamo persi due speriamo che siano solo una botta e magari una lussazione comunque niente di che però ragazzi dobbiamo fare di più non esiste che eravamo una squadra solida difensivamente e adesso se va mia nonna c'è il rischio che segni non esiste quando io ho visto zorte a fare lo slalom dentro l'aria sono impazzito nessuno che ci andava per paura di far fallo e dagli una botta fisicamente cioè senza far fallo ma ma vale addosso cattivo cattivo ci vuole fame ragazzi ci vuole fame ci vuole fame dovremmo avere dei giocatori che hanno la pava alla bocca in certe partite invece no invece no quindi riprendo le frasi ancora una volta di davis chi non si sente da juve chi si rende conto di non essere da juve faccia le valigie se ne vada perché poi è facile dire ma lippi diceva che che andiamo vinciamo le competizioni grazie grazie aveva davis zidane del piero in zaghi e è facile e qui e qui che bisogna dimostrare prima di tutto di essere uomini e poi giocatori ragazzi bisogna tirare fuori le palle bisogna tirare fuori le palle certe occasioni e oggi e oggi io sono contento del fatto che abbiano almeno dato una risposta mentale perché io ve lo giuro dopo il 2 a 1 ho veramente temuto che la partita andasse a Ramenco quindi va bene così però ragazzi bisogna muovere il pallone più velocemente cambiare gioco concretizzare difendere bene saper ripartire facciamo facciamo degli errori a volte veramente imbarazzanti imbarazzanti però però sono tre punti che pesano tantissimo e godo tantissimo perché poi vincere l'ultimo ti fa sempre godere e speriamo che l'atalanta faccia perdere qualche punticino al milan e niente e niente torniamo alla vittoria e questo e questo è fondamentale fondamentale ragazzi penso di aver svegliato dalla sesta pomeridiana a mezzo quartiere al gol di Rougani ho rischiato di mettermi a piangere a momenti dallo shock perché non ci speravo più non ci speravo più perché quando vedi un tiro murato a Rougani e Alcaraz che la spara le stelle e Vlaovic che la spara le stelle e spesso volentieri in fuorigioco dai dai comunque io voglio vedere anche più personalità negli uno contro uno vuoi vedere healing che salta l'uomo voglio vedere UEA che rischia la giocata io queste cose qui le voglio vedere le voglio vedere le voglio vedere speriamo che questa sia la prima vittoria di una lunga serie speriamo comunque di tornare a fare parecchi punti perché non vincere oggi sarebbe stato terrificante terrificante ma perché siamo dei polli ragazzi ma perché siamo dei polli noi siamo dei polli noi il discorso è questo siamo noi dei polli siamo noi dei polli discorso è questo perché una partita così te la sei complicata da solo da solo hai preso tre tiri in porta hai preso due gol te la sei complicata da solo va bene detto ciò se riesco sveglio faccio commento di dalla partita di Cagliari io vi mando un forte abbraccio ditemi la vostra e ragazzi ci ha salvato Rugani prima di chiudere io ho sempre criticato Rugani perché difensivamente secondo me non è niente di che anzi però c'è da dire che sui piazzati è sempre stato un giocatore pericoloso poi secondo me non ha neanche segnato tanto per per quelle che sono le sue potenzialità però è un giocatore che sa posizionarsi e ci sa dare quindi è ottimo un forte abbraccio scrivete il canale di fan del verbo e andiamo cazzo cattiveria grazie a tutti